carissimi amici del canale youtube dentro la notizia sarà capitato anche a voi di andare in qualche posto e di venire sottoposti al controllo della temperatura con un termolaser o un termometro ad infrarossi puntato in mezzo alla fronte e magari chiedere gentilmente se potevano puntarlo su un braccio ma di rado la risposta è stata positiva è già spiacevole che ovunque tu debba andare devi essere sottoposto a determinati controlli ti fa sentire meno libero spesso ti vengono richieste le generalità e capita che ti domandi quale saranno le conseguenze se la temperatura rilevata è al di sopra della norma già a quali conseguenze andremo incontro in caso di una piccola febbre o di una leggera insolazione tipica del periodo estivo ma soprattutto perché l'insistenza di puntare il termolaser in mezzo alla fronte ebbene come molti sapranno in mezzo alla nostra fronte si trova una ghiandola a lungo tempo ritenuta una ghiandola vestigiale superflua che a nulla serviva ancora oggi è una parte del corpo ufficialmente poco studiata eppure dal poco che si sa l'epifisi è tutt'altro che superflua vediamo di conoscerla meglio e di capire perché le lit puntano proprio a quella la ghiandola pineale o epifisi nota anche come terzo occhio è una struttura cerebrale situata ai margini del terzo ventricolo una cavità del cervello che contiene liquor o liquido cerebrospinale il preziosissimo liquor porta sostanze nutritive a tutto il sistema nervoso centrale ed elimina le scorie tramite un sistema di cavità comunicanti la ghiandola pineale è una ghiandola endocrina rilascia cioè ormoni che raggiungono parti anche distanti dell'organismo attraverso il sistema circolatorio le sue cellule i pinealociti producono la melatonina un ormone derivato dal neurotrasmettitore serotonina che viene secreto solo di notte e ha un ruolo importantissimo nel regolare il ritmo sonno veglia la melatonina è infatti elevata nell'età prepuberale e diminuisce con l'inizio della pubertà questa ghiandola forma di pigna molto piccola ha un diametro di circa 8 mm e un peso irrisorio 0,1 grammi pensate l'epifisi è tutt'altro che una struttura superflua come la si descriveva fino a pochi decenni orsono la melatonina infatti è un ormone chiave nella regolazione dicevamo del ciclo sonno veglia a dare importanza all'epifisi fu in particolare cartesio filosofo e matematico francese del diciassettesimo secolo descrisse infatti in alcuni suoi trattati la ghiandola pineale come la sede principale dell'animo umano un'altra meraviglia tutta da studiare di questa piccolissima ghiandola è che produce la dimetiltriptamina nota come dmt una sostanza psichedelica capace di produrre effetti molto particolari sulla nostra percezione delle cose dilatando lo spazio e il tempo tutto questo è possibile soprattutto durante la fase rem del sonno se non si seguono però buone abitudini di vita si arriva gradualmente con l'età all'atrofizzazione della ghiandola pineale una condizione che in anzianità porta fisiologicamente a ridurre le ore di sonno o soffrire addirittura di insonnia sembra poi che il fluoruro sia una sostanza che si accumula frequentemente nella ghiandola pineale piuttosto che altrove nel corpo generando a lungo termine una possibile calcificazione dovuta alla formazione di cristalli di fosfato piano piano dunque si inizia a produrre sempre meno melatonina per questo c'è chi cerca di eliminare il più possibile l'assunzione involontaria di fluoruro evitando ad esempio dentifrici che lo contengono e scegliendo acqua a basso residuo fisso c'è inoltre chi ritiene che la calcificazione della ghiandola pineale sia un mezzo con il quale si possano addormentare le coscienze e dunque manipolare le masse rendendo le apatiche pratica utilizzata dal nazismo fino ai giorni nostri come abbiamo detto di notte la ghiandola pineale produce la melatonina per favorire al meglio la sua produzione però occorre il buio anche una luce soffusa infatti va a rallentare la produzione di melatonina è per questo che utilizzare la sera telefonini tablet oppure guardare la televisione è altamente sconsigliato tutti questi dispositivi andrebbero spenti almeno due ore prima di andare a dormire il buon funzionamento della ghiandola pineale è fondamentale per il benessere psicofisico non solo per dormire bene ma anche per avere un umore migliore maggiore energia un sistema immunitario forte e combattere l'invecchiamento cellulare e questo è il punto la ghiandola pineale produce la melatonina che rafforza il nostro sistema immunitario un sistema immunitario forte permette di contrastare meglio il virus un sistema immunitario debole permette al virus di portarci a uno stato di malattia più o meno grave a questa conclusione si perviene da alcuni studi condotti dal professor pierpaoli maestroni conti ed altri negli anni tra il 1986 e il 1989 che hanno preso in esame l'azione della melatonina e il ruolo quindi della ghiandola pineale come modulatore della risposta degli anticorpi e antagonista dell'immuno soppressione la melatonina mediante i suoi effetti sincronizzanti sull'intero sistema neuroendocrino controlla a sua volta il sistema immunitario il professor pierpaoli e un team di ricercatori con un lavoro che venne pubblicato nel 1987 sulla rivista immunology letters dimostrarono che la melatonina è un fondamentale agente immunoregolatore in grado di antagonizzare le conseguenze immunosoppressive dello stress d'ansia acuta dovuto a fattori sia psicogeni che infettivi la melatonina si è dimostrata efficace alleata nel controllo fisiologico di stress e delle malattie infettive correlate ad esso il nostro organismo è protetto da molteplici minacce attraverso una stretta rete di meccanismi immunitari e neuroendocrini interconnessi tra loro questa considerazione è frutto di una dimostrazione contenuta nel volume della prima conferenza di stromboli tenuta dal professor pierpaoli nel 1988 ed edito dalla new york academy of science la pubblicazione riporta la sfuma dei precedenti risultati più uno se correttamente somministrata nel corso dell'immunizzazione primaria la melatonina aveva dimostrato di migliorare in modo specifico e permanente la è stato dimostrato che ormoni e neurotrasmettitore influenzano in vari modi la risposta immunitaria ed è stato riportato che le citochine molecole indicative di stati infiammatori rilasciate da cellule immunocompetenti influenzano i meccanismi neuroendocrini la melatonina per esempio è un importante antiossidante e anche una diffusa molecola anti infiammatoria che modula le citochine sia pro che anti infiammatorie in diverse condizioni uno studio più recente condotto da ricercatori del china's academy of medical science and packing union medical college nel bain in cina insieme agli studiosi del ut health of san antonio in texas ha offerto un'ulteriore conferma del potenziale uso della melatonina a sostegno dell'equilibrio immunitario oggetto dell'analisi leziologia della sindrome acuta da stress respiratorio causata dal covid 19 le osservazioni hanno evidenziato la presenza nei pazienti che hanno contatto il virus di un preesistente stato di immunodepressione questa ridotta capacità di rispondere agli attacchi del virus è legata a uno stato infiammatorio e al conseguente rilascio di citochine nei pazienti evento che porta a una rapida evoluzione verso una condizione di insufficienza respiratoria acuta la melatonina ha proprietà antinfiammatorie antiossidanti e contribuisce a regolare il sistema immunitario andando avanti viene evidenziata la logica dell'uso della melatonina nei pazienti covid 19 non solo sull'attenuazione dei disturbi respiratori indotti dall'infezione e delle potenziali complicanze ma anche su un miglioramento complessivo del benessere dei pazienti in conclusione non ci sono sufficienti studi ufficiali sulla ghiandola pineale pur essendo dimostrato che ha un ruolo fondamentale nel sistema immunitario inoltre non sappiamo che effetto possa avere il continuo puntare il termolaser sull'epifisi ma il buon senso vorrebbe che evitassimo tutte le pratiche non necessarie e dagli effetti collaterali sconosciuti carissimi amici del canale youtube dentro la notizia un vivo ringraziamento a tutti voi che aiutate la libera informazione a tutela del popolo grazie del vostro sostegno e per la condivisione dei video più siamo più forza avremo uniti si vince divisi abbiamo già perso un abbraccio dal vostro robbie